Ciao ragazzi e bentornati alla seconda puntata della serie sulla storia della domotica. Nel caso stiate guardando questo video appena esce, vi ricordo che in contemporanea praticamente uscirà anche l'altro video della serie colazione col covid-19. Perché non lo sapesse è una serie che sto facendo da quando sono in quarantena, quattro chiacchiere mattutine, parleremo un po' di cose che si possono fare in casa in questo periodo, cercheremo di rimanere attivi, allegri e di imparare qualcosa da tutto quello che sta succedendo. Per chi invece guarda questo video in un altro momento, benvenuti alla seconda puntata. Oggi parleremo della preistoria della domotica. Infatti ho un paio di ospiti. Lui è embolo, me l'hanno regalato tipo cinque anni fa un compleanno, è diventato l'eroe della festa e da allora mi fa compagnia in casa, è gonfiato da cinque anni e mi fa compagnia, è sempre in casa con me. Bene, perché parlo di preistoria della domotica? Perché ci sono cose che sono state inventate veramente tanto tanto tempo fa. La prima di quelle che mi viene in mente è il sensore di movimento. Avete presente, io mi ricordo già negli anni Ottanta si usavano i sensori di movimento con la luce crepuscolare. Tu entravi in cortile e ti si accendeva la luce. comodissima. Quella è stata proprio una un po' delle basi dell'automazione. Bene, tutto questo che, vi dico la verità, non tutti ci sono ancora arrivati perché ho i vicini con dei fari che mi puntano contro la finestra della camera accesi tutta la notte a caso così, tanto per. Non capisco perché, perché non c'è mai nessuno che va nella zona dei garage così, quindi... E non ditemi che è per la sicurezza perché se volete mettere qualcosa per la sicurezza mettetegli un sensore di movimento così almeno la luce è sempre spenta e il ladro non vede quello che c'è e nel momento in cui passa l'eventuale ladro la luce si accende e tu sei in casa, vedi che si accende la luce e dici te cosa è successo. Altrimenti se c'è la luce sempre accesa è normale che ci sia la luce sempre accesa, tu non capisci se c'è qualcuno, il ladro arriva, vede tutto bello illuminato, è bello comodo a fare gli affari suoi e lo state aiutando. Quindi per piacere non lasciate luci accese a caso così tutta la notte. Mettetegli un sensore crepuscolare di movimento, costano veramente una stupidata, si parla di 15-25 euro. Risparmiate un sacco di elettricità, evitate inquinamento luminoso, non rompete le balle vicini e non aiutate i ladri. Detto questo, cosa c'entra tutto questo con la domotica? C'entra perché esistono delle fantastiche barre a led dotate di una batteria interna con un sensore crepuscolare di movimento che vanno di presenza, più che altro, non di movimento come quelle di prima anche, che vanno ad accendersi solo quando notano il passaggio di qualcuno. Ok, vedete, tipo adesso ho fatto il buio, vede che c'è qualcosa e la luce si accende. Queste sono comodissime, costano pochissimo, le mettete in un angolo dove vi serve, dove passate di solito, e loro quando vi vedono passare, se c'è buio si accendono, se non passa nessuno restano spente, se passa qualcuno ma c'è già abbastanza luce, loro non si accendono e basta. La batteria dura una vita, cioè le caricate proprio, boh, non lo so, dipende da quale, questa qui dura qualche mese, ne ho altre invece che fanno un po' più luce, durano un mesetto più o meno, però comunque ve ne dimenticate. Quando è scarica, tac, micro USB come i vecchi cellulari e si carica tranquillamente. Queste ve le straconsiglio, vi metto qua sotto qualche link perché esistono diversi modelli e con alcuni mi sono trovato meglio, con alcuni mi sono trovato peggio, ne ho tre diversi tipi in casa, sono veramente una figata. Un'evoluzione di questa è la luce del water che avevo postato qualche giorno fa, anche quella, sensore di movimento, sensore di presenza, sensore crepuscolare, quando voi vi avvicinate alla tazza, lei si accende. E vi assicuro che tutta roba che costa pochissimo, non dà mai problemi, le batterie durano un sacco e fanno egregiamente il loro lavoro. E anzi, visto che non sono solo cose vecchie, ma esistono ancora, ho qui per voi una luce crepuscolare plug and play, sensor night light della Yeelight. La Yeelight è quella azienda controllata da Xiaomi che fa un sacco di cose tipo le lampadine smart che vedremo nei prossimi video e altre cose così. Allora, la scatola che come al solito arriva dalla Cina tutta cartocciata, contiene la nostra presa, oltretutto con l'attacco europeo, attenzione, 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 noi l'andiamo ad aprire e vediamo che cos'ha. Ha un tastino dietro che non so cosa posso servire e un sensore qua da parte. Il sensore qua da parte non mi ispira molto, eh? Quindi come funzionerà questa? Semplicissimo, noi andiamo a collegarla, anzi la metto col sensore di qua così rimane un po' più a buio, e lei si accenderà, farà questa bellissima luce circolare e andrà ad accendersi quando vedrà il movimento. Non è assolutamente smart o roba del genere, però dovrebbe fare il suo lavoro. Sì, esatto, lo fa, lo fa. C'è troppa luce qua fuori. Fa questa bellissima luce. Se faccio così rimane l'ombra al sensore, perfetto. Vedete? Allora, purtroppo il sensore è solo nella parte inferiore e quindi vede il movimento solo da questo lato. Potrebbe essere utile in alcune situazioni e totalmente scomoda in altre, tipo qua ci fa vedere della luce messa sopra una culla. In quel caso, se voi avete la luce a quest'altezza, col sensore che punta in basso, si illumina solo quando voi andate a guardare il vostro bambino nella culla, ad esempio. In quel caso potrebbe essere molto utile. In altri casi, non lo so, ci ragionerò, vedrò dove usarla. Ok. Ho scoperto anche a cosa serve questo tastino e semplicemente per smontarla, perché in base al paese in cui la spediscono monteranno la presa adatta. Tac, si riattacca. Perfetto. Costa uno stupidato, non mi ricordo neanche più quanto l'avevo pagata e speriamo faccia il suo lavoro. Ve lo farò sapere nei video quelli mattutini, per cui seguite anche quelli. Ok, poi, altra cosa che è stata alle basi della domotica sono state le prese. Le luci e le prese hanno accompagnato la domotica in ogni periodo degli ultimi anni. Più che delle prese, degli interruttori. Vi faccio vedere questi qua, che sono degli interruttori che avevo preso tanti anni fa. Ok. Sono semplicemente dei dei relais. Praticamente sono delle scatolette con dentro un circuito che vanno ad aprire e chiudere il passaggio della corrente. Hanno semplicemente il cavo d'ingresso, il cavo di uscita e si comandano tramite un fantastico telecomando. Ok. Voi con i vostri tastini andate a dare i comandi. Oltretutto, si potevano fare diverse combinazioni. Potevate farlo che un clic si accende, un clic si spegne, che con un tasto si accende e con l'altro si spegne, che mentre lo tenete premuto rimane acceso, oppure mentre lo tenete premuto rimane spento. Insomma, c'erano diverse possibilità. Questi qui, in questo caso, hanno un massimo di 1000 Watt come potenza che possono leggere, quindi erano già di quelli un po' più bellini. Questi possono essere comandati dal telecomando, ma poi vedremo nei prossimi video come si possono comandare anche con altre cose, non solo con questo telecomando. Nelle altre scatolotte che avete visto ci sono semplicemente altre versioni. Un po' più moderne, ad esempio questa qua ha due canali e ha i telecomandini un po' più belli, oppure questa qua lavora 12V. Oltretutto, quella a 12V non escludo di usarla in questi giorni in cui sono chiuso in casa in quarantena. Perché ovviamente è un progetto carino. Che poi andrò ovviamente a sostituire con qualcosa di un po' più moderno, appena troverò un'offerta. offerta che vi pubblicherò anche sul canale Telegram. Vi ricordo che c'è un canale Telegram con tutte le offerte. Ve lo lascio qua sotto. L'evoluzione di queste prese, di questi interruttori, è proprio la presa, visto che l'ho oggetto mille volte. È la presa. Ok. Prese Wi-Fi. Queste qui, ai tempi quando non c'era ancora la vendita online, le trovavate e andavano un sacco alla Lidl. O in posti del genere, o nei mercatini, o cose del genere. Che cosa vuol dire? Voi avete questa presa, la attaccate alla corrente normalmente, avete un telecomandino, la presa ha un tastino d'accensione, anche in questo caso, come ce l'aveva anche quello. Voi andate ad associarli e poi, quando premete il tastino corrispondente sul telecomando, voi aprite o chiudete la circolazione della corrente, i contatti. Quindi, questo era comodissimo perché voi potevate attaccare delle lampade, attaccare quello che volevate e con il vostro telecomandino potevate andare a stupire gli amici accendendo e spegnendo tutto così a distanza col telecomandino. Questo andava tantissimo, tantissimi anni fa. Cioè, parliamo di... Porca troia. Parliamo di 10-15 anni fa ormai. Passano gli anni. Eh, embolo? Ok, detto questo non aggiungo altro, vi rimando al prossimo video in modo da non farli troppo lunghi e il prossimo video vedremo qualcosa di già un feno più moderno, qualcosa di un pochino più smart, qualcosa di un po' più attuale. In qualsiasi caso, vi ricordo che questi hanno fatto la storia, sono state cose bellissime ai tempi, adesso magari no, questi no, no, cioè lasciateli perdere, veramente, ve li sconsiglio, o meglio, sono ottimi prodotti, ma se vi state approcciando alla domotica, magari non iniziate con quello. Vi straconsiglio invece queste barre a led. Sono piccole, comode, funzionano benissimo, questo ce l'ho da almeno 5 anni e vanno alla grade. Link qua sotto. Ha potuto oltretutto regolare anche le varie funzioni, cioè tipo sempre accesa, si accende, non mi ricordo quando, fa cos'altro, sempre spenta. Insomma, ah, già, 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 le due potenze di luce anche. Io le tengo così bassa perché tanto ne fa comunque abbastanza. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale anche perché ho scoperto che per fare le dirette ci vogliono almeno mille iscritti. Quindi, insomma, fatelo anche per voi perché così almeno riuscirò a darvi qualche contenuto in più. Instagram, vabbè, ci vogliono 10.000 iscritti per potervi mettere i like, i link, ed è una follia. Però ai mille iscritti del video ci punto un po' di più. Dai, iscrivetevi, è qua sotto. Non vi costa niente, non vi cambia niente, ma mi permette di fare molto molto di più. Ciao e alla prossima. Embolo, ti devi spostare. No, eh? Dai, dai, dai. Dai, su. Beh, dammi un bacione. Sì, 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 un bacione, un bacione, un bacione, bravo. Mi potevo fatto cadere. Ah, sì. Adesso, devo andare. Ciao, ciao. Madonna mia. Questa storia della quarantena dà un po' alla testa, però. Sì, perciò che sei.